E' passato un mese dalla BIT di Milano ed ancora c'è confusione sui conti spesi dalla provincia. Il PDL Brindisino aveva attaccato Ferrarese alla sua giunta per aver speso 120.000 euro per questa manifestazione e il coordinatore del PDL Vitali aveva definito Ferrarese falso e bugiardo. Da parte sua la maggioranza provinciale aveva chiesto all'opposizione di dimostrare con i documenti e di non lanciare alcuse gratuite, documenti da portare lunedì davanti ad un notaio. Questo è il fatto riassunto in poche parole, ma il PDL e la Puglia prima di tutto, lunedì dal notaio non vuol presentarsi e presenta invece alcuni documenti alla stampa. Prima di fare questo Vitali però ammette, ho sbagliato la cifra, non è di 120.000 euro ma di 80.000. Ed infatti l'opposizione presenta due delibere di giunta dove si evince dalla prima un impegno di spesa di 26.800 euro e una seconda, senza però alcuna data nel numero di protocollo, di 50.000 euro. Da qui le 76.800 euro dette da Vitali. Ma i conti poi non tornano quando l'opposizione presenta invece le determine e cioè i documenti con i quali vengono liquidati i soldi. Si hanno solo tre determine, una di 10.200 euro con i soldi dati alla Publidea e la Young Communication per Gadget e Brojour, associazione vicina a Ferrarese e al suo gruppo di giovani e una di 6.500 per le spese di viaggio e siamo a quota 16.700. E poi c'è una terza determina di 18.000 euro, 15.000 euro più IVA, per l'affitto dello stand in piazza Beccheria a Milano durante i giorni della BIT. Insomma siamo a quota circa 34.000 euro, lontane dalle cifre di Vitali ma anche della provincia che aveva detto attraverso l'assessore Mita di aver speso per la BIT 15.000 euro. La spiegazione secondo Ferrarese sta nel fatto che per la borsa del turismo non si è speso un euro in quanto la provincia era ospitata nello stand della regione. 15.000 euro erano invece solo per piazza Beccheria, mentre le 10.000 euro per Gadget e Brojour erano per tutte le manifestazioni di tutto l'anno, mentre la delivere dei 50.000 euro, quella non esisterebbe più. Il segretario provinciale dell'Udc, Argesa, a questo punto invita Vitali e compagni a presentarsi lunedì davanti al notaio da così da confrontare le carte e quindi a chiedere le dimissioni e mettere per sempre la valora fine su questa questione. Ma Vitali risponde così. È il caso di mettere a disposizione dell'opinione pubblica, quindi della stampa e dell'opposizione, tutta la documentazione è contabile, quindi è molto semplice, i numeri non sono chiaramente interpretabili, sono quelli che sono, quindi senza fare polemiche sterili e buttarla in rissa da cortile, bene farebbe il segretario provinciale dell'Udc e qui sostiene la maggioranza di convocare una conferenza stampa, mettere a disposizione dei consiglieri tutti dell'opposizione di maggioranza le delibere di giunta e le determini dirigenziali di pagamento. E lunedì forse non è il caso di andare a questo notaio così mettete fine una volta per tutta questa questione? No, ecco, visto che c'è il notaio, una proposta l'ha fatto il Presidente del gruppo, la provincia del PDL Cdc, e visto che c'è il notaio, che ci sono i dirigenti provinciali della maggioranza, forse è meglio che si dimette l'assessore Baldassarre per la quale sono state, diciamo così, rinvenute numerose fatture di ristoranti che non hanno una giustificazione istituzionale.